C'è una cosa che avresti voluto sapere prima sul sesso? Come anche il fatto dell'orgasmo comunque, cioè il fatto che comunque bisogna per forza raggiungere l'orgasmo forse per gli uomini è un po' diverso però non è necessario per forza durante ogni rapporto sessuale dover necessariamente raggiungere l'orgasmo Non sono d'accordo ma è capitato, ma me lo sono poi andato a prendere da solo altrove L'avevo lasciato di lì Effettivamente una sola volta da ragazzo mi era capitato, erano le primissime esperienze dove ci stava che poi non fosse sfociato in un rapporto completo senza problema però ho sentito veramente un problema fisico stavo proprio a disagio in una sensazione che non mi ero mai trovato eravamo in campeggio con una ragazza si stava facendo le prime cose, erano i primi campeggi dove dicevi oh dormo fuori, andavamo in campeggio, quindi esploravi e sono andato nel bosco da solo pensa lì quant'era un verbo ti sei sentito un verbo un'immagine tremenda però ci sta però è inevitabile scusami, hai eiaculato su una quercia, su una pianta cioè è andata così io con la perversione che mi piace che gli alberi mi guardino e basta perché non ti giudicano no, non ti giudicano, sono lì e Grazie a tutti.